Allora io sono Marcus Grone, signore e signori bentornati nella Crazy Craft Nell'ultima puntata ci siamo un po' sollazzati con i Lucky Block E non è andata poi così male, in realtà non siamo morti mai perché abbiamo l'armatura di Superman E con i Pandora Sbox invece abbiamo fatto quel casino laggiù Intanto qui la natura ancora fa cicciotto 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 E io ho fatto imparare alla nostra Tom of Alcalist Nudenscience Le Aes of Ender Perché effettivamente... No le api, no davvero guarda eh Ape? Ape? Mi fai un cazzà? Ma perché vi bruto il naso ogni volta che devo registrare la donnazione? Ape? Dove sei Ape? C'è l'andata? Perché effettivamente mentre parlavamo mi è venuto in mente dell'Ender Dragon Quindi adesso io non voglio prenderle tutte ma vorrei prenderne uno stack o giù di lì Quindi... Perché me le fa prendere così? Non erano staccabili a 16? No? Ah ok, va bene Tanto ho abbastanza AMC con tutte quelle Nade Star Perfetto, signore e signori, siamo pronti, siamo caldi Quest'arco non ha bisogno del... Perfetto, fantastico Abbiamo tutto? Qui così Chi sta che troveremo di diverso nel... Nel... Nooo perché le butti dentro? Vieni qui Nel... Nel Ender E come torniamo a casa? Mmm... Questa è un'ottima domanda Marco Scroon Questa è un'ottima domanda Credo che non ci sia una risposta Purtroppo la risposta non c'è ragazzi Mi dispiace Oh kagehi! Oh ci serve del cibo accidenti Oh delle apple Prendiamo delle apple? Facciamo così E poi del cook, cook, cook E il pesce curuto No, il pesce cotto Ah salmone, buono Ok, mangiamo il salmone E tiriamo un Ender perlina Per... Su quella direzione Ah! Ma che sciocco Non mi serve camminare Mi basta Mi basta, mi basta, mi basta, mi basta, mi basta Direi... Direi... Girlfriends Oh, e dai una cosa che vola Una farfalla, dai Tu mi fai farfallar Tu mi fai... Perché non vola la farfalla? Ah ok Tu mi fai farfallar Come fossi una farfalla Ma perché c'ha soltanto un cuore la farfalla? No dai, davvero Questa è Motra Che è Tumatra Ok, Blades E mi butti giù Ah ok, di qua Di qua Mi butti giù Come fossi Che cazzo sei tu? Ah, sei un cristiano Io ti ammazzo Perché... Eh, sì Esatto Ok, siamo andato nella direzione Giusto ragazzotti Anche se effettivamente Potevo farmi una pozione Di Zwiftnaf Perché Zwiftnaf? Non dura Perché la polvere Lo cattura Vediamo un po' Sempre diritto È la nostra strada Sulla mia cattiva strada Che belle queste Questi parapanji Uh, un villaggio È il secondo villaggio Che incontro da quando gioco E quella è Oh mio Dio Quella è Una gallina Fermi tutti Allora, innanzitutto Che cazzo è sta roba? Uh, slime pet Golden apple Save you from sheltered death Davvero? Che carina che sei Ok, qua sotto Che cazzo è sta struttura? Cioè, che me serve? A chi serve una struttura? Ah, io? Ma cosa? Ah, sono un blazer Giustamente Ok Questo villaggio È alquanto strano È davvero molto strano E basta morire nell'acqua Un babbeo però Se mori nell'acqua, eh Devo ricordarmi Non cliccare su VNG Con il tasto sinistro Apotecari Buongiorno Salve Del pane Grazie No Questo villaggio È quanto strano Ma questo attrae La mia attenzione In maniera più che Spasmodica Quindi Che cacchio è Che ha costruito questo? Ciao Non posso entrare Li farò così E tornerò alle mie sembianze Ma che cacchio di cosa è? Ma l'ho già vista E la mia memoria Non me la ricorda? O non l'ho mai vista E sono ricoglionito? Aspetta, no Dovrebbe essere il contrario Ah è vero sono Hulk Lo dimentico sempre Ehi là Porca puttana Quanto sei brutto Mori Da mangiare Da mangiare Mi sa di sì Mi sa che quel tizio Già l'avevo visto Però che strano Quanto cibo Quanta fregna Mi acquisto è scopa Diceva Mario Sì E posso Mangiarlo? Spero di sì Ok Ma aspettavo qualcosa di più E invece E invece niente Quindi continuiamo La nostra ricerca Anche se Laggiù Si vedono Si intravedono Altre cose interessanti Ad esempio La banca De Zio Paperone Sì vabbè Scusate Se ve lo dico Ma Cioè ormai Ma quella è la tartaruga ninja Tartaruga ninja Per dif Dai guarda Esplodi Esplodi Ecco è questo Dai Non serve a niente È inutile È inutile Per difendere la terra Viva i ninja Spatapum Spatabem Spatapram Spingate Bung Spatush E spatasvraus Una farfalla Una farfalla Ma mori Non riesco a prenderla Perché È l'alta Alta 1 Ah ma è motra Cazzo Sono cascato di qua Ma sei motra Ma motra madre Oh le E l'è morta Quanto Quanto Ender Quanto Nè ter star Mi dai Non mi danno Nè ter star Motra Si regà Però state Proprio Un percazzo Cioè io Sono buono E magnanimo Però voi non Mi fate fa niente Oh Deficiente Vieni qua Ecco qua Ok Torniamo a noi Non ci Non ci Regà Voi vi distraite Troppo Davvero Cioè noi abbiamo Una missione E quella Dobbiamo fare Uh 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 Lucky block Uh Porca puttana Perché mi devi Fa sempre venire i corpi Eh Perché Mi lo spieghi Ok Che cosa era quello Era un Acqua Già 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 L'abbiamo passato L'abbiamo passato Eccolo È qui Me lo sento No non è lì È lì È lì Ragazzi È lì Ma potevo tirarle Effettivamente Mentre stavo Gironzolando Ancora no Oppela Oppela Ma è sotto il villaggio No Ma io c'ero prima Giuro che stavo qui Eh ma io vengo da qui Ma sei Sarempampito Oh Che siamo ragazzi Che È un ladro Aladro Ma per favore Sezie Ah con Rubino Ci facciamo la roba di Superman Se non sbaglio No Sbaglio Ok E là si scende Che è Oh le Zignori e zignore Gesemo Ora Io direi Ho delle torce Ho delle torce Non ho delle torce Ragazzi non vedete Che cos'è L'Energon Ragazzi è la prima volta che c'ho l'Energon Posso fare Posso fare Uh che figata L'Energon E chi Cioè È la prima Che è quello Che è quello No ma io voglio l'Energon Ragazzi Oh cazzo I silver Uh altro Energon Ma si trova soltanto qui Niente Energon Regà è pieno di Energon A sto posto Energon Bello Per chi non lo sapesse L'Energon È il L'energia base Con cui si Si alimentano I Transformers E ce n'è un botto E non ne avevo mai trovata E stavo iniziando a pensare Che si Si creasse Proprio qui Però Oddio Può darsi di sì Può darsi che è soltanto Nelle Nelle Stronghold Che figo Ta 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 Eh Mi scusi Mi scusi Grazie No E infatti Tu sei Ametista Non mi interessi E infatti Qui non c'è Però qui c'è Un blocco D'oro Perché ci stanno Dei blocchi D'oro Ogni tanto Sta cosa Mi inquieta parecchio Se devo essere Sintiero Surprise Uh questo qui Dobbiamo provarlo Ragazzi È tipo Lovetto Kinder Eh no La mia teoria Va a puttane Bronzo Davvero bronzo Che ci si fa Col bronzo Sì ok Però Poi Niente Iron Mark Oh Interessante No cazzo Sono pienissimo Buttiamo tutto dentro 37 di Energon Eh Interessante Molto 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 Interessante No ragazzi C'è l'Energon Pure qua Però Qua sopra C'è la Stronghold Io non vedo Un cazzo Non vedo Un cazzo Non vedo Un cazzo Non vedo Un cazzo Dov'è che stanno C'è il portale Esatto Dov'è Guarda di qua Black Light Oh Ma che cazzo Sei a di Puoi fare il mandarino Con gli anelli No 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 Chi è Chi è I Silverfish Forse stanno qua sopra No Ho paura di Silverfish Sono Il mob più brutto Del mondo Vabbè Utilizziamo Lender Pirle Eccole qua E là sopra Facciamo così Lo so che non è Un metodo standard Però Il vostro Marco Scrona Non è standard Guarda come beccò La lava Voi non vedete un cazzo Vero Neanche io Quanto cazzo è alto Ok Forse il metodo standard Si è rivelato Ah Schifi 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 Raga Uh No Speravo altri così Del mandarino Vediamo un po' Oh ma Uh Energon Energon Si sale ancora Sì Sì Si scende È di qua Ma dice che è qui No non mi dica Una di quelle Scrause Bisogna cercarla Bisogna cercarla Ragazzi Facciamo così Mi metto a cercare la cosa E nella prossima puntata Andiamo a vedere Che cacchio c'è L'Enland E soprattutto Poi torniamo E facciamo le cose Con l'Energon Bella Regà Che cacchio c'è